Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news, cronaca giudiziaria. Nell'ultima odienza prima della pausa estiva parliamo del processo Coingas, in aula testimoni delle parti civili tra i quali l'attuale presidente e amministratore delegato di Estra Alessandro Piazzi. Il processo riprenderà il prossimo 13 settembre perché è prevista ovviamente la pausa estiva. Si parla anche delle condizioni del tempo in questo periodo, sembra essere uno degli argomenti di maggiore attualità. Codice rosso per gli incendi, giallo per possibili temporali. Il saluto di Caronte e Agliaretini non sarà senza difficoltà. È chiaro che tutti ambiscono ad avere un po' di refrigerio perché le temperature sono state e continuano ad essere nettamente superiori alla media. Uno sguardo all'economia del territorio e alle sue prospettive. Si ne è discusso alla borsa merci in piazza Risorgimento ad Arezzo in occasione della giornata dell'economia. È stato fatto un po' il punto sull'attuale situazione produttiva dei vari comparti e si sono messe soprattutto in evidenza le ripercussioni che la situazione internazionale sta dando anche all'economia del territorio. Queste erano le nostre breaking news. Grazie a tutti.